È stato un bel ritorno al Del Conero per Michele De Feudis, punto interrogativo? Sì, sì, come no. Ho salutato vecchi conoscenti e lasciami ringraziare chi è stato l'artefice a portarmi qui. Siccome non l'ho fatto mai pubblicamente, adesso lo faccio. Direttore Ciccio Micciola, ho salutato un sacco di persone a cui voglio bene perché mi sono trovato bene. Perché Ancona è una piazza importante e ti fa stare bene. Peccato quello che è successo dopo. Mister, calcisticamente invece contento del pari della prestazione soprattutto perché il risultato va visto sotto altri punti di vista. Sì, io sono contento. Siamo partiti bene, come ti dicevo prima, i primi 15 minuti. Al primo errore magari siamo andati un po' in sfiducia. Loro hanno approfittato degli errori magari in uscita nostri e sono stati pericolosi. Abbiamo sofferto un po' quel quarto d'ora, ecco fino alla mezz'ora. Poi dopo abbiamo deciso un attimo di non rischiare più, quindi rinviavamo sempre. Poi la partita là è stata tutta un po' di seconde palle di rinviare. Il secondo tempo siamo andati un pochino meglio perché magari gestivamo un pochino meglio la palla. Con più tranquillità mister, perché all'inizio sembravate un po' come se il pallone scottasse. Sì, ma ci sta perché non è facile, pure l'Ancona ci ha messo più determinazione perché pure loro giustamente hanno tentato di tutto per vincere la partita. Quindi è una partita, io sono contento del risultato. Domenica si torna all'Aquila, fino a domenica scorsa era zona vostra completamente. Ora bisogna rispondere con una settimana in più sulle gambe guidati appunto da Michele De Feutis. Sì, sì, c'è una settimana, giochiamo a casa nostra, ci aspettiamo l'incitamento della gente, spero le vengano in parecchi. Noi domenica quando giochiamo in casa, visto quello che ci si aspetta da noi, dovremmo cercare quantomeno di fare il massimo per vincere la partita. Non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire.